È in corso dalle prime luci dell'alba una vasta operazione della Polizia di Stato dell'Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza nel quartiere Monte Calvario, precisamente nella zona dei cosiddetti quartieri spagnoli con modalità alto impatto. Il servizio è finalizzato all'esecuzione di numerose perquisizioni e all'identificazione di persone e veicoli sospetti. La predetta attività vede la partecipazione di circa 300 operatori delle diverse forze dell'ordine e concorreranno i reparti specializzati delle diverse forze di polizia coinvolte.